L'appuntamento con Matteo Fago e con l'Annunciamo Sindora, la prossima volta soneremo insieme. Va bene, tu prendi la parte alta del pentagramma, io prendo la parte media. Allora, qual è il pezzo che soneremo? Questo lo decidi tu, posso fare tutto io. Matteo, sei stato un protagonista di questo campionato, hai già due titoli nel doppio e nel singolare. Adesso a parte tutto parliamo della finale con Berrettini. Una partita molto equilibrata, sin dall'inizio Jacopo è stato bravo a giocare nel modo giusto, oggi non era facile, non era facile giocare, il vento, il sole, la palla spesso non rimbalzava bene, quindi era importante essere concentrati e cercare di giocare, di fare il possibile. Magari certe volte non si riuscirono a fare belli scambi, però l'importante era stare calmi e dare il massimo oggi. Certo, Jacopo Berrettini ti ha impegnato? Jacopo è stato bravo, soprattutto dal punto di vista mentale, a giocare la partita e non partire magari un po' battuto. Mi sono veramente divertito, credo che sia stato un bello spettacolo anche per il pubblico. Salutiamo tutti i soci del Garden, numerosissimi, tutto lo staff, tutti coloro che ti hanno seguito, che ti hanno applaudito anche nel Rock Garden, mondo S-Show, ti sei divertito, ci siamo divertiti. Allora, con Matteo Faga, appuntamento sempre al doppio misto, io non ho parole, hai fatto la tattica, sì? Sì, ci pensa Sonia. Ci pensa Sonia, questa è la frase con la quale concludiamo l'intervista con Faga. Ciao Matteo, ciao. Grazie. Grazie. Grazie.